Buongiorno a tutti, sono Francesco, papà di Pierluigi e Carlotta. Stiamo vivendo una fase della nostra vita complicata che ci sta mettendo alla prova su vari ambiti. Dal lavoro alla gestione della quotidianità i nostri ritmi sono stati sfalsati dal senso civico che ci impone di rimanere a casa. L'esperienza di lezione a distanza che i miei figli stanno vivendo con l'aiuto delle insegnanti del Sabinianum fa sì che almeno la loro quotidianità venga rispettata, anche se in modalità diversa, ma rispettata. Riuscire a vedere, a parlare con i compagni, con le maestre, tenersi impegnati con le lezioni, esercizi, con i lavoretti e perché no anche qualche chiacchiera con i loro amici, fa loro pesare di meno questo momento. Dal lato genitore questa buona pratica mi aiuta sicuramente a gestire parte della loro giornata, dando anche a me la possibilità di trovare tempo per svolgere le mie attività lavorative. Ho visto che i miei figli attendono con ansia il suono virtuale della campanella delle otto, che permette loro di estragnarsi per un po' di ore dalla realtà particolare che in questo periodo ci circonda. Vi saluto con l'hashtag andrà tutto bene, consapevole che se tutti noi faremo la nostra parte supereremo questo momento quanto prima.